Buongiorno! Tutto a posto? Tutto a posto? Eh, dovrebbe arrivare la trabola? Aspettiamo, no? A posto? Sì, tutto bene. Vagli, vagli, vagli! Vagli, vagli! Ce la sei fatta? Ma stanno a piedere per un criminale! Perché? Perché? Perché ieri sono pigliato la macchina a uno! Lo sono pure ammazzato! Lo sono pure pigliato la sua volta! Ma come l'hai ammazzato? Eh beh, c'è una amica che ero prima che ammazzi! Che? Ma per me è una cosa da ogni giorno, sono troppo forte! Io sono troppo forte, lo sa! Ma sei pazzo? C'è uno come a me non lo trovi da nessuna parte! Io ti faccio 50 omicidi in 3 secondi! Madonna, non lo sai che sei un criminale adesso? Eh, c'è da, aspetta, ora ti racconto un momento! Ma come li hai uccisi? Ma un po' con la pistola, una po' con un coltilegno! Shhh! Zitto! Non siamo mai già sentiti qualcuno! Ora siamo nei guai anche noi! Ma che te figgio, c'è da! Ma come? Che ti dico? Certo, certo, certo li ho ammazzati pure col bazooka! Ma come col bazooka? È così pariante! Ma quali varianti? Non ci sono le persone! Ma per me è una cosa normale, hai capito? Ma come è normale? Ma ieri su quanto è esplorato gli otto di uno! Ma come le persone? Sono morte! Ma come sono morte? Mi sono fregato pure i soldi! Mo capiste che poi va fresca fresca! Oh madonna! Ah poi mi sono ammazzato pure un poliziotto! Chi era dall'FBI? Cioè ci sono un poliziotto! Eh, mi sono fregato pure il carro armato! Eh, dove sei il carro armato? L'hai messo? L'ho buttato in dall'acqua! Non mi serviva più! Ma come? Io non ho visto niente su TGT Romulisi! Eh, eh! Maglio, ma non lo l'ho fatto qua a San Francisco! E quando ci sei andato? Maglio, ma che siete capiti? Io stiamo a parlare in città a Sant'Andrea, a San Gioco! Ma vaffanculo! Ma questi l'infanzia come l'hanno passata? Maglio, via!